Ecco qua, sono le 23.15 del 30 giugno 2013, io il mio dovere l'ho fatto e ho lasciato i bidoni della raccolta differenziata, o meglio, della raccolta dei rifiuti porta a porta vicino al cancello di casa. Adesso sono proprio curioso di vedere cosa succederà domani mattina e speriamo che Dio ce la mandi buona. Ecco, adesso sono le 8 della mattina del primo luglio, io come potete vedere sono ancora in pigiama perché il regime lellista si costringe a uscire da casa in pigiama. Adesso vediamo se è stata fatta la raccolta, allora i bidoni sono ancora qua, magica burra, vediamo? Sto cazzo nel cold! Alle 8 della mattina del primo luglio il rumato sta ancora qua, eccoci qua, è carta canta. Ecco, sono le 8-5. Dunque, adesso il regime lellista mi deve spiegare dove cazzo me le devo mettere queste cose, le devo tenere dentro casa? Sono le 8 di lunedì, io adesso devo prendere l'aereo e torno qui venerdì sera perché lavoro tutta la settimana fuori. Venerdì sera che cosa devo trovare dopo che il rumato è rimasto una settimana dentro casa? Le zocco le lunghe così? Allora spiegatemi che cazzo di differenziate di porta a porta è questo qua.